Benvenuti al derby di Milano, ecco le squadre in campo Dentro per cambiasso Prova a girarsi, Zayder, poi il destro, palla di Zayder Prima grandissima palla per l'Inter, terzo minuto di gioco Prova ad accelerare il gol a Pandev, ancora Pandev, sempre Pandev, posizione di tiro Prova a sinistra, deviato, Zayder, tida, ha fatto un miracolo Poi arriva Gambiasso, colpisce Pirlo, poi colpisce Favalli Pandev che gira subito, si infila in uno spazio Milito Riesce a guadagnare il pallone Milito, 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 Milito Principa Milito, 1-0, sempre Milito, 13 gol del campionato Non sbaglia mai Fabio, non sbaglia mai Qui ha sbagliato il Milan, perché era in anticipo su questa palla Milito quando vai poi sul fondo, ad ingrociare quel sinistro sull'altro palo Partito sicuramente meglio, l'Inter aveva cercato già un paio di occasioni Il palo di Zayder, l'altra grande parata 3 contro 3, Pandev, adesso c'è Milito Pandev l'ha visto, aspetta l'inserimento, ecco il pallone Milito in area di rigore, Milito ancora adesso, tida Calcio d'angolo, derby a mille all'ora, 15 minuti, 1-0 per l'Inter Lucio, lo tocca Ambrosini, giallo Per Lucio, simulazione Siamo in rosso Siamo in applausi Vapir la deviazione e palla in calcio d'angolo con Giulio Cesar spiazzato Balla verso il centro, Giulio Cesar con un miracolo La palla è schizzata in mezzo a tre uomini Favalli Beckham ha fatto troppo bene, difficile che mette sempre di chi fa il cross Beckham, Borriello viene fuori, Digno, sul fondo di nulla Pandev che prova a girarsi, ancora Pandev Prova a dare verticale, Milito in posizione regolare Prova ad andare, Milito è solo, Milito ancora in area di rigore Milito, dribbling Milito con il sinistro Dida, facile Si allarga per il traversone Eccolo che arriva, il cross, Borriello Sul fondo, attacca fortissimo il Milan Uno contro uno di Pandev su Favalli Prova ad accelerare da Milito con un treno Eccolo servito, ci abba di fronte a lui Milito va ancora uno contro uno Sempre Pandev che si fa vedere Milito, palla c'è, palla non c'è ancora Milito che rientra poi dentro per Pandev Posizione regolare Palla di Pandev, gravoroso Ma Pandev Pandev 2-0 Il calcio è strano Doveva uscire È rimasto in campo e ha fatto 2-0 E lo dice Mourinho Te l'ho detto che non lo dovevamo cambiare Te l'ho detto che doveva tirarla lui Fabio l'ha calciata benissimo Perché se tu guardi la barriera del Milan Sei anche avvicinata Quindi l'ha fatta passare sopra la barriera Senov che vuole girarsi Palla ancora dentro Posizione regolare Ultima Giulio Cesar Con un miracolo Non permette che la partita si riapra L'apertura è per Tiago Silva In era di rigore Tiago Silva Traversone Ha salvato con la faccia Credo Lucio Giallo e rosso per Lucio E credo calcio di rigore Calcio di rigore per il Milan Sembrava proteggersi Sì Giulio Cesar Spegne la luce a San Siro Tiago Motta aspetta il movimento di Maicon Che vuole passare Spariglia Anculovski Scusate Antelini Naturalmente è passato a Nore E Dida salva su Maicon Ed ecco le fisco finale Tutti sotto le doccia Inter batte Milan 2-0 Allunga nuovamente in classifica Grazie